Noi eravamo nelle ruote di Librino, 2002. Una decina di famiglie in graduatoria per l'assegnazione di un alloggio popolare ha occupato oggi l'ufficio Casa del Comune di Catania. Gli aderenti al comitato Casa per Tutti hanno chiesto al responsabile dell'ufficio la data certa e il numero degli alloggi che verranno assegnati agli aventi diritto. Quello che chiediamo noi è semplicemente trasparenza da un ufficio che invece ce la nega e siamo stati costretti a bloccare i lavori dell'ufficio in questa giornata in attesa che ci dicano semplicemente quando questi lavori verranno ultimati e quanti alloggi. Dopodiché ci dovranno dire anche quali sono le 16 famiglie su una lista ufficiale di 6.000 che avranno l'alloggio popolare.